C'è un po' concreto che sarebbe sotto l'albero Anamoletani? Vorrei cercare di avere una città un po' più ordinate, un po' più pulita. Oggi non è pulita, lo so bene, ci sono un po' di rifiuti in giro. La nostra sfida del 2022 sarà una città più pulita, più verde e più ordinata. Ci dovete dare il tempo però di poter lavorare, di poter riorganizzare dei servizi che oggi purtroppo non sono ancora soddisfacenti come noi vorremmo. L'obiettivo temporale per questa pulizia? Io penso che abbiamo bisogno di più forza al lavoro e più organizzazione alla SIA, anche se ci sono anche dei problemi diversi che stanno emergendo in questi giorni. Io spero che nel giro di poche settimane riusciremo ad avere i primi segnali positivi. Quali problemi? No, nel senso che ci sono un po' dei conflitti sindacali, dei problemi interni che non consentono poi di avere un pieno espletamento del servizio. Hai ricevuto molte segnalazioni? Sì, abbiamo ricevuto diverse segnalazioni, molte lamentele, quindi insomma abbiamo fatto un giro, ho visto che ci sono delle situazioni, insomma la città va pulita meglio. Grazie sindaco.